Settimana importante per i lavoratori della Treofan di Battipaglia, attesi da due appuntamenti importanti dopo la visita nella scorsa settimana dell'advisor di Gindal chiamato a dare corpo alla possibile riconversione del sito. A fare il punto della situazione i delegati sindacali CGL e CISL Antonio Gielmi e Alberto Padula. La settimana scorsa abbiamo conosciuto l'advisor, domani siamo stati convocati al ministero, al mese alle 17 e dopo domani alle 10 andiamo al ministero del lavoro. Domani ci dovrebbe essere la presentazione dell'advisor e eventualmente qualche programma al mese e dopo domani la firma della CIGS. La tensione resta alta perché il problema ovviamente, la CIGS è un tampone, non è una soluzione, quindi la tensione comunque resta alta, il morale è capito da soli che comunque è giù perché siamo qui da Natale, dal 21 di dicembre, quindi sono parecchi mesi, quindi la stanchezza che si fa cominciare a sentire, però abbiamo quella cosa comunque di non mollare mai. Si parla di reindustrializzazione del sito, questa prima visita dell'advisor, com'è andata, qual è la vostra impressione? L'advisor è venuto il giorno 21, siamo stati convocati in Sindustria, ci ha spiegato il suo modo di lavorare, sembrano delle persone che sanno quello che fanno, le impressioni sono state positive, anche perché poi è entrato dentro con i tecnici, si è interessato assolutamente di tutto, di ogni piccolo particolare dello stabilimento e quindi c'è da dire che l'impressione che abbiamo avuto noi nell'incontro con i Nassi Industria è stata un'impressione positiva, certo che adesso ci aspettiamo i fatti, perché le parole alla fine rimangono sul tavolo, quello che servono a noi sono i fatti. Anche perché ciò immagino comunque debba avvenire in tempi relativamente brevi? Diciamo di sì, loro hanno detto comunque che un po' di tempo ci vuole, proprio il modo loro che hanno di lavorare, lui ha detto che prima, secondo loro, a meno che non ci sono delle cose particolari, prima di 6-8 mesi è difficile che si possa trovare qualche altro soggetto affidabile, perché loro ci tengono questa cosa che comunque vengono un soggetto affidabile e non un soggetto che prende soldi pubblici e poi la cosa muore là. Grazie